ho un effetto che mi piaceva così ho continuato a farlo mi piaceva molto come effetto e non avendo un rosso più scuro ho optato per fare così mettendoci il gliccio sopra insomma un po' mi piaceva e niente adesso sto cercando di creare una specie di contouring è riuscito malissimo e allora vado a picchiettare con le dita cercando di spalmarlo e sì mi piace abbastanza volevo fare una specie di contouring tipo occhiaia perché mi sembrava più adatto a una specie di fantasma qualcosa di horror comunque ci sta e quindi provo a fare la stessa cosa provo perché non mi viene mai ovviamente uguale e provo a farlo anche dall'altra parte mi riesce più o meno simile diciamo così avendo anche il naso con tipo una specie di coppa si può dire così con l'osso fuori da un lato quindi la sfumatura diciamo il contouring mi veniva un po' diverso però io già ho provato lo stesso lo vado a sfumare con le dita così e qui ho preso anche una tonalità più scura per provare a fare qualche effetto di non lo so ombra o comunque molto più per rendere tutto molto più creepy sì sono abbastanza soddisfatta però credo che è andato un po' fuori fuoco perché mi sono mossa ma vabbè è tale voglio renderlo più simile da un lato l'ho fatto più scuro non lo vado a sfumare ancora lo vado a prendere a picchettare il pennello sull'ombretto e vado ad aggiungere pigmento sul pigmento sto cercando di usare dei termini ASMR o tricherosi tipo pigmento picchettare e ora anche qui vado a creare quella specie di contouring un po' più scuro perché da un lato l'ho fatto più scuro però mi pare che aggiungo più profino tutto uno scherzo no dai alla fine mi è piaciuto come è uscito non ho idea di che cosa sia però mi è piaciuto qui vado a sfumare con le dita per rendere tutto più fuso insieme per dargli un senso anche se un senso non ce l'aveva come citando delle canzoni e insomma vado a cercare di rendere più uniforme la base bianca con il trucco degli occhi e a creare una specie di contouring che non sono brava a fare ma ci metto il mio impegno insomma e non mi dispiace come effetto col grigio e rosso ci sta veramente molto bene a mettere un po' di grigio sulle labbra ma proprio poco poco le ho fatte bianche e adesso ci vado a mettere solo una piccola piccola quantità di grigio faccio fatica perché ho il piercing che impizza quindi provo a spostare il piercing si mi piace questa piccola quantità di nero sulle labbra mi piace molto e vado a scegliere non so ancora con un altro pennellino più piccolo vado a prendere un po' di grigio e disegno come delle venature sulla parte sotto sulla guancia diciamo dall'occhio alla guancia insomma come si non sono lacrime sono proprio venature come delle vene non lo so spiegare mi era venuta questa idea che mi fa tipo cos'è un fantasma non lo so cosa potrebbe essere un demone ma neanche quindi non so mi piacevano queste venature grigie che risaltavano dall'occhio che era da nero si sfumava una cosa che si doveva tipo intravedere come mi piaceva questa idea ecco mi piace molto sono soddisfatta però decido di che manca qualcosa e quindi cerco di creare una specie di di contouring chiamiamolo così non so come chiamarlo mi dispiace per rendere gli zigomi più tipo per rendere come il mio viso più magro ancora più magro perché lo rende proprio cadaverico e quindi ho spalmato dell'ombretto nero cosa sono gli zigomi non ho idea di come si chiama questa parte del volto comunque mi dava l'idea di di creare più il viso più sottile e quindi l'ho creato prima una linea proprio scura nera e poi l'ho sfumata sempre con le dita anche lì sono basette e niente poi mi sono aiutata con il cerone e l'ho impiastricciato tutto e ho creato questa sfumatura che non è male mi piaceva l'effetto da una parte ho fatto più scuro ovviamente ma dettagli e faccio delle facce buffe per vedere se l'ho messo bene ovviamente mi sono accorta che da un lato era più chiaro però ho fatto del mio meglio poi faccio delle facce buffe perchè ci stanno con il trucco per vedere se rendeva la sua creposità non si dice ma non importa sciolgo i capelli ed ecco il make up pronto quindi se faccio ovviamente delle facce buffe tipo selfie time molto mi diverte molto questa cosa e niente come fanno di solito nei video quelli di fashion ci fanno tutte queste pose però mi piace davvero sono soddisfatta del mio trucco e lo si può fare come puoi vedere in quindici non ho fatto tagli in quindici minuti se uno non ha idee per halloween e non ha molto materiale può fare benissimo così quindi è economico è last minute ecco possiamo anche chiamarlo così e niente spero che questo video ti abbia fatto rilassare che ti sia piaciuto fammelo sapere con un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e già vi adora un bacio ci vediamo ciao